Una vita attiva. Ti tieni in movimento giorno dopo giorno. A volte sgradevoli odori possono persistere sui vestiti. Dr. Beckman rimuovi odori, li elimina agendo in profondità all'interno delle fibre, durante il ciclo di risciacquo, quando entra a contatto con i tessuti. Le molecole anti-odor complex eliminano gli odori sgradevoli e quando i capi sono indossati, le microcapsule di freschezza si depositano sui tessuti e neutralizzano nuovi odori emergenti. Un piacevole profumo si sprigiona a ogni movimento per una sensazione di freschezza che dura a lungo. Grazie.